E quindi andiamo a vedere il voto di Arisa 8 Andiamo a vedere il voto della Pettinelli Un bel 7 e mezzo 7 Notaio, scusi Andiamo a vedere il voto di Zerbi, quanto ti immagini Sancho? 5 e mezzo Vediamo Oddio Aspetta No dai Gaia è il primo dei tanti, tranquilla Poverissimo Grazie 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 Grazie